Buongiorno, io sono Albi e con questo piccolo video link volevo darvi link a due miei video che sono usciti su Jinba Network e che hanno inaugurato altrettante serie su Jinba Network che proseguirò, una ogni domenica e una ogni due mercoledì. Dunque, beh, probabilmente molti di voi appunto l'avranno già visti, ma volevo assicurarmi che tutti sapeste di questi video, visto che sono comunque video che faccio su Jinba invece che sul mio canale e magari qualcuno di voi o qualcuno dei miei fan se li era persi. E niente, i link sono nella descrizione, come al solito. Niente, direi che è tutto qua, non c'è altro da dire se non che a breve farò un video in cui vi dirò qualche roba su Jinba Network in più. Quindi sì, lasciate un bel mi piace, non tanto qua ma ai video su Jinba Network e ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Ciao.